Prima di iniziare ragazzi qui sul canale da adesso potrete vincere tantissimi oggetti di Fortnite tra cui bundle, vbucks, skin, codici di fumetti e tantissime altre ricompense semplicemente ragazzi eseguendo questi semplicissimi tre passaggi innanzitutto essere iscritti con la campanellina al canale se no ragazzi nel sito dove faccio i contest non vi conta quindi cosa fondamentale innanzitutto essere iscritti se no non potrete essere estratti seconda cosa ragazzi commentare con qualsiasi cosa ciao il vostro ID basta che commentate così avete l'occasione di essere ovviamente estratti e lasciare mi raccomando un bel like per supportarmi e poi ogni giorno insomma verrà estratta una persona quindi avremo diversi vincitori ogni giorno con cui con un semplice giro di ruota avranno la possibilità di riscattare una ricompensa la ruota della fortuna è comunque esattamente questa che vedete alla mia destra quindi non appena ci saranno i vincitori per ogni persona insomma si gira la ruota e come possiamo vedere si vince un oggetto tra questi qua che vedete alla mia destra ovviamente settimana in settimana cambieranno quindi non sono ovviamente fissi un giorno ci potrebbe essere che ne so il pack di Joker un altro giorno o un'altra settimana potrebbe esserci un altro di Bundle quindi ovviamente mano a mano che passano i giorni settimane le ricompense comunque cambieranno e come ogni giorno ragazzi facciamo subito il giro vediamo oggi il vincitore vince Massimiliano facciamo subito il giro ragazzi bentornati in questo unissimo video io sono la Cecchinato e oggi siamo qui in un nuovissimo video sempre per parlare di nuovissime novità su Fortnite per iniziare mi raccomando like iscrizione al canale se non l'hai ancora fatto oggi comunque parleremo un po' dell'aggiornamento che arriverà a gennaio di quello che potrebbe arrivare dello scudo quindi parleremo della nuova crew e di un oggetto che è stato nel negozio di oggetto esattamente nella giornata di ieri che era un'esclusiva quindi magari alcuni l'hanno visto l'hanno potuto prendere poi purtroppo è stato giustamente anche direi rimosso perché faceva parte chiaramente di una promozione e non doveva più uscire in realtà prima di vedere tutte queste news quindi mi raccomando anche di cliccare qua sotto nel link in descrizione che trovate il mio canale Telegram detto questo passiamo però ora allo shop shop interessante oggi abbiamo il set alza il volume che come possiamo vedere comprende anche un bel po' di emote le skin eccetera ma attenzione perché guardate un po' qui abbiamo la sezione in magazzino un anno o più ci sono skin che veramente non uscivano da tantissimo tempo esempio lei so che tipo non usciva da tantissimo poi c'è anche sto piccone che è tipo vecchissimo stagione 1 proprio la prima stagione di Fortnite e poi insomma altre skin e tra cui ragazzi questo backpack che questo forse non usciva direttamente dalla stagione 8 quindi veramente non usciva da troppo troppo tempo l'hanno fatto riuscire finalmente e poi insomma abbiamo altri bundle che potete chiaramente prendere solite collaborazioni uscite anche a nuova skin serie di icone eccetera insomma iniziamo quindi con le news la prima riguarda sempre un po' i negozi oggetti come possiamo vedere le skin marvel ragazzi tutte quindi tutto l'intero set che finora abbiamo avuto di skin marvel tranne ovviamente la vedova nera che come ben sapete per qualche oscuro motivo epic non la fa più riuscire nel negozi oggetti non è stata neanche riaggiornata una singola volta non è più tornata dalla prima volta che l'hanno fatto uscire però comunque tutte le altre skin della marvel ragazzi le vedrete presto nei prossimi giorni nel negozi oggetti poi il nuovo crew di fortnite ragazzi che è uscita direttamente ieri come possiamo vedere si presenta in questa maniera con un backpack skin piccone tra altre cose c'è anche ovviamente il piccone poi che più crew acquisti più ovviamente aumentano le varianti che puoi ottenere i vivax e ovviamente il pass battaglia qualora non l'abbiate ancora comprato come crew sicuramente non è male ma è la solita skin a parer mio poi non so voi che comunque usi letteralmente due volte poi te la dimentichi nel negozi oggetti fatemi comunque sapere voi invece cosa ne pensate qua sotto nei commenti vi lascio intanto comunque anche ragazzi un gameplay ce lo guardiamo insieme come possiamo vedere un piccone veramente enorme da quello che si vede insomma in questo gameplay la skin comunque è abbastanza robusta quindi sicuramente non è una in quelle skin inclusi nell'arena competitive eccetera perché occupa comunque uno spazio importante a causa dell'armatura il piccone comunque non è male fatemi ovviamente sapere comunque la vostra se la prenderete insomma cosa ne pensate qua sotto nei commenti cosa abbiamo poi nei prossimi giorni su Fortnite? con questo posto lo possiamo bene o male vedere ragazzi infatti la crew di gennaio vabbè questa è stata già svelata arriverà ovviamente il primo gennaio nuovi incarichi settimanali fine della collaborazione con Myro Academia e l'ultima settimana delle vacanze invernali di Epic Games perché poi come ben sappiamo a inizio gennaio forse il 3 se non erro ci dovrebbe essere la nuova patch patch che ovviamente sarà molto molto importante per la creativa 2.0 che se tutto va bene insomma ci saranno probabilmente già dei leaks dei file che verranno decryptati di questa creativa 2.0 che in teoria dovrebbe arrivare grosso modo entro fine gennaio o qualcosina dopo passiamo poi ragazzi allo scudo infatti abbiamo nuove novità il nuovo oggetto innanzitutto che si chiamerà scudo del guardiano probabilmente sarà abilitato ragazzi con l'arrivo della quinta settimana quindi grosso modo dovrebbe essere disponibile dal 3 gennaio poiché ovviamente chiede l'utilizzo in questa sfida è uno scudo portatile che blocca il fuoco e gli esplosivi inoltre può essere anche ovviamente lanciato quindi items è sicuramente molto interessante non vedo l'ora di provarlo fatemi sapere comunque qua sotto nei commenti poi abbiamo recentemente comunque visto anche un gameplay sembrerebbe essere un ottimo oggetto da portare insomma tra i vari oggetti che possiamo avere concluderei ragazzi adesso invece con questa ultima novità più che novità in realtà è una curiosità infatti nella giornata di ieri forse non me ne siete accorti perché è stato rimosso comunque abbastanza velocemente ma nel negozio oggetti di ieri c'era un piccolo problema che vi mostro subito come possiamo vedere accanto al bundle della skin ombra c'era ok le skin insomma quelle due da 1500 bucks che adesso non ricordo il nome in italiano comunque se voi guardate in bassa destra l'ultimo items in bassa destra c'è un deltaplano che praticamente veniva dato solo tramite una promozione di invidia se non erro che dovevi avere mi sembra una certa invidia e potevi ottenere un bundle che c'era la skin c'era il deltaplano forse anche il piccone eccetera e per sbaglio questo deltaplano che era un'esclusiva o quindi una promozione che quindi non può uscire nel negozio oggetti per sbaglio l'hanno buttato e quindi per non so quanto perché magari si tratta di minuti o ore adesso non lo so però alcuni insomma sono riusciti probabilmente a prenderlo e altri ovviamente no però insomma questo è stato poi rimosso entro pochi credo minuti o ore adesso non ne ho idea però per chi insomma l'ha visto nel shop e se l'è preso ragazzi adesso c'è una promozione che in realtà non doveva avere e sembrerebbe che se l'avete preso non vi verranno rimborsati i V-Bucks quindi non vi verrà rimborsato l'oggetto potrete tranquillamente tenerlo nel vostro armadietto anche se in realtà questo era più un bug una cosa non voluta però fatemi sapere se l'avete visto se l'avete preso insomma se così fosse siete stati fortunati perché era una promozione e non dovevo uscire quindi vedremo magari un giorno vedremo anche nello shop alla rene che da sto punto per sbaglio e fatemi sapere comunque cosa ne pensate io direi che ci vediamo domani comunque con un altro video sempre alle ore 13 circa mi raccomando like e iscrizione a domani bella ciao 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 ciao